E' per questo che regalo la macchina tecnica che contiene lancio. Lancio può essere molto buona se lanci una palla ferro. Oddio, si chiama palla ferro, quella che praticamente ti fa attaccare per ultimo. La mossa lancio non ha effetto se il Pokémon non ha con sé uno strumento, e a me pare giusto, che si lancia... Beh no, in teoria un Infernoi, essendo una scimmia, potrebbe lanciare la sua cacca. E' lore!